Siamo qui da Beer Shop, Nelson spiegaci cosa abbiamo qui davanti, una bruschetta di affianco Una bruschetta di affianco con pane di altamura, ventricina e salsa cheddar E con cosa l'abbiniamo? Ovviamente con una birra 81 Abbinata con una nostra birra, una linea di birra 81 La Hot Town è una da Bolipa, 8.3 gradi Secondo me ci sta bene Ti ringrazio, buon appetito!